Il mondo dello spettacolo, in prima linea per la solidarietà, sarà interamente devoluta all'attività di assistenza oncologica domiciliare, gratuita, della Lilt di Napoli, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il ricavato dello spettacolo scritto, diretto e interpretato da Lina Sastri, per La Strada, in scena ieri sera al Teatro delle Palme di Napoli. Grande successo di pubblico per l'iniziativa, commentata così dal presidente della Lilt di Napoli, il professor Adolfo Gallipoli del Rico. Lina questa sera ha fatto parlare il cuore e fondamentalmente la cosa che ci ha commosso e che ha voluto iniziare lo spettacolo qui a Delle Palme, che ringraziamo per l'ospitalità, non con la prima, ma con un'anteprima dedicata alla solidarietà, quindi alla Lega Tomori, quindi all'assistenza oncologica domiciliare gratuita. Di queste gliene saremo sempre grati, così come siamo grati ai tantissimi che stasera hanno affollato questo teatro. e quindi ancora una volta i riflettori accesi su una situazione particolare, qual è quella dell'assistenza oncologica domiciliare, dove i napoletani hanno risposto come sempre alla grande.